E storceva denaro con minacce di ritorsioni ad una conoscente pensionata di 68 anni. La donna era rimasta ferita lo scorso giugno in seguito ad un incidente stradale avvenuto con l'autovettura guidata da un bracciante agricolo di 47 anni, di origine tunisine. Successivamente la donna aveva ricevuto un risarcimento dall'assicurazione e secondo l'accusa il bracciante l'avrebbe minacciata per ottenere una parte della somma. La donna ha poi denunciato l'episodio ai carabinieri, i quali con una mirata attività investigativa avrebbero bloccato il 47enne, poco dopo la consegne del denaro da parte della donna, e subito arrestato con l'accusa di estorsione. L'uomo è adesso posto ai domiciliari.